Una sala gremita di giovani e di vita, quella che ha accolto lo scorso 31 ottobre al quarto piano dell'hotel Poseidon la presentazione del libro di Pietro Perone, Don Riboldi, 1923-2023, Il coraggio tradito. L'evento, promosso dall'Associazione Monsignor Michele Sasso per celebrare la memoria del rivoluzionario e coraggioso Vescovo di Acerra, del quale quest'anno ricorrono i cento anni della nascita e la sua visita negli anni 90 all'allora scuola media torrese Monsignor Michele Sasso è stato finalizzato ad offrire un modello di legalità ai giovani attraverso la testimonianza sulle due figure sacerdotali, entrambe vissute ed operanti in contesti sociali fortemente a rischio. Io ricordo Don Riboldi alla mia scuola 25 anni fa, è veramente un personaggio che spruzzava la pubblicità da tutte le parti per lui, perché poteva fare per i poveri. Infatti noi fu organizzato una bella colletta e lui accettò quei ventieri e quel ricordo, l'immagine non la dimenticherò mai. Perché Monsignor Riboldi venne a Torre del Greco? Venne a Torre del Greco perché fu invitato allora presi da Masetto e dal corpo insegnante che nella nostra zona i ragazzi erano devianti da questa camurra che coappava, diciamo così, che in quella zona prendeva molto fuoco, diciamo, è così. E così Don Riboldi venne a provare con i ragazzi e veramente fu una gioia per tutti. Un viaggio nella memoria storica corredato da un'attente e puntuale analisi documentaristica di fatti, luoghi e persone della campagna degli anni 80, gli anni di piombo dell'Italia, sapientemente costruita ed articolata dal caporedattore del mattino ed incentrata sui valori alla base del grande messaggio di innovazione di Monsignor Riboldi, alla luce dei quali Perone ha riletto e riproposto gli anni di quella grande primavera giovanile contro la dilagante trama di rapporti oscuri tra sistemi di camorra e corruzione politica. Un libro per ricordare quella stagione ma soprattutto anche per guardare al futuro e guardarle con un certo rammarico anche al presente perché il problema della criminalità organizzata resta tra le emergenze di questo paese ma diciamo che negli ultimi decenni ci siamo un po' disabituati a combattere anche nelle piazze la camorra, la mafia e aspettiamo che tutto possa essere fatto dalla magistratura alle forze e all'ordine. Chi ha tradito il coraggio di Don Riboldi? Il coraggio di Don Riboldi è stato tradito dalla politica, dalla politica che non ha saputo creare le condizioni per un futuro diverso rispetto a quello che i giovani dell'epoca chiedevano nelle piazze e tradito perché dopo questo grande atto di coraggio di un vescovo con i suoi ragazzi ci sfurano una serie di promesse, una serie di impegni, tutti non mantenuti. Ampio il parterre istituzionale intervenuto dall'assessore alla pubblica istruzione Maria Teresa Sorrentino, all'avvocato Gennaro Torrese, presidente dell'Unione regionale dei fori della campagna, sino al vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Ragna. Presenti inoltre gli studenti degli istituti comprensivi De Nicola Sasso, Mazza Colamarino, Don Bosco D'Assisi e degli istituti superiori Francesco Degni e Cristoforo Coloni.